Un cordiale saluto a tutti voi telespettatori. Diamo inizio a questa nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno con Le Nuove del Paese, giornale del decanato di Livinallongo. In prima di copertina viene offerto ai lettori una sintesi dell'enciclica del Papa Francesco, Fratelli Tutti, e il titolo dato a questa riflessione, a questi spunti offerti, Nessuno si salva da solo. Viene presentata la ricchezza di questo documento e la solidità delle proposte che vengono fatte. Ecco, si parla della necessità di fraternità, di solidarietà, si denuncia un mondo chiuso, si afferma che non ci si salva da soli, specie in questo tempo di pandemia, contro i nazionalismi. C'è poi la sottolineatura, un tema carissimo a Papa Francesco, il lavoro come fonte di esistenza dignitoso. Poi il problema del mercato, sia il populismo che il liberismo sono disprezzo dei più deboli, il problema dei migranti, il dialogo tra le persone. Ecco, alcune proposte interessanti che si ricavano anche da una lettura diretta di questo documento. Abbiamo poi il giornale che presenta i testi che di mese in mese il parroco Dondario e le suore che vivono in quella comunità presentano i fedeli. Due foto presentano l'amministrazione del sacramento della Cresima per un gruppo di ragazzi e la prima comunione per un gruppo di bambini. Gli altri riceveranno i due sacramenti in primavera. Una bella foto di Araba il giorno dell'Immacolata, una nevicata che ormai avevamo dimenticato nella sua modalità. Festa per i 50 anni di vita sacerdotale di padre Giuseppe de Tommaso, 50 anni di vita di cui una buona parte vissute in Etiopia dove il sacerdote vive, in Comboniano, ma ritorna ogni tanto al suo paese per invigorire un po' la memoria di quello che sono le sue radici di questa comunità che ha dato una decina di missionari alla Chiesa. Incontri online per approfondire la fede proposti da Dondario, una testimonianza del Natale vissuto, un grazie da Fodon Servizi a chi si avvicina alle persone che vivono nella casa di riposo. Ricordo di alcune persone che hanno lasciato. Parrocchia di Colle, tante persone ci chiedono come sono state le feste e natalizie, il primo Natale di Don Renato Tasso, parroco dopo Don Gabriele Bernardi a Colle Santa Lucia. Si parla di serenità e ottimismo che si vorrebbe dare anche se ci sono molte realtà che vanno contro tendenza a questo stato d'animo. Si parla di un futuro sul piano della fede e si sottolinea la importanza dei genitori impegnati a trasmettere questi valori. La fede cristiana viene coltivata in famiglia o scomparirà in breve tempo, viene detto. Il giornale dà poi conto della messa celebrata il giorno di Santa Lucia da Don Lino Agostini, sacerdote originario di Colle. Corone d'Avvento, presentate. Ecco il giorno della festa, Don Lino Agostini ha portato al paese un libro da lui scritto con poesie e documentazioni fotografiche in memoria di un fratello defunto, Chizuola Sudada. Chizuola è un pane particolare che viene tagliato, Sudada c'è la fatica di procurare, viene raccontata la storia e la vicenda non solo personale di Don Lino ma della sua famiglia e del paese. Scuola dell'infanzia, la testimonianza di una vita con le limitazioni che sappiamo. Sfida, una nuova opera in ricordo di vaia, ecco questo monumento di sette metri dove un tronco di albero è stato impiantato, viene un germoglio, una nuova esistenza, un simbolo di quello che dovrebbe essere la ripresa dei nostri paesi. Ecco il giornale passa poi a ricordare storia, arte e cultura, i coscritti, le persone che hanno chiuso la vita nella comunità, l'angolo dei ricordi sempre ricco e interessante per coloro che sono del paese. Ecco passiamo poi a un concorso per i ragazzi della scuola e poi una carellata del mondo delle associazioni sempre vive in questi paesi col volontariato e a servizio della gente. Abbiamo visto le nuove del paese, giornale del decanato di Livi Nallongo. Bellunesi nel mondo, giornale dell'associazione Bellunesi nel mondo, sottotitolo questa volta da 55 anni insieme. La prima di copertina è dedicata ai mondiali di sci alpino che stanno per iniziare in quel di cortina, nonostante le difficoltà create dalla pandemia e dalla non presenza di pubblico. È un evento di grande espressore mondiale la visibilità di questa località noi carissima e auguriamo che riesca tutto nel migliore dei modi. Piccole sfumature di rosa e azzurro, la riflessione del direttore nell'orizzonte di un nuovo anno. Ecco la situazione è un po' problematica, però il direttore ci invita a guardare anche al positivo e superare l'angoscia che rischia di nascere in tutte le persone. Ecco, si parla anche di qualche segno positivo, di una fiducia che c'è ad esempio nell'associazione Bellunesi nel mondo che ormai è giunta al suo 55esimo anno come abbiamo ricordato. La BUM che ottiene anche qualche piccolo risultato come quella della riduzione dell'IMU da pagare a chi ha un'altra casa rispetto a quella che abita perché è iscritto all'Aire e poi abbiamo anche la speranza che nasce dai mondiali di Cortina che sono sempre un segno di vitalità. La foto documenta la prima persona vaccinata, un'operatrice sanitaria di Feltre che ha ricevuto il vaccino anti-Covid e viene documentata. Ecco la notizia che abbiamo dato, l'IMU al 50%, prima vittoria della BUM, ma battaglia continua. Gli iscritti all'Aire hanno ricevuto una riduzione, con una casa di proprietà in Italia, hanno ricevuto una riduzione dell'IMU al 50%, è un passo avanti. Battaglia Covid, anche a Belluno è partita la vaccinazione, c'è il problema della didattica a distanza, abbiamo poi l'alarma e spopolamento che è una delle situazioni più drammatiche che si creano nella nostra realtà e che politici e anche altre categorie di persone cercano di combattere perché si va verso qualcosa di estremamente negativo. Abbiamo perso, stando a questa statistica, 6.000 persone in 7 anni, è un calo molto grave. Facciamo presto, devono agire in fretta perché questa denatalità anche della nostra provincia non diventi qualcosa di irreversibile, soprattutto grave per la situazione globale. Come senti Belluno, viene dato conto di una indagine sull'attaccamento al territorio. Maltempo nel bellunese, documentazione fotografica dei danni che ha fatto l'ultimo evento meteorologico, prima che poi arrivasse l'abbondante nevicata che ha creato ancora ulteriori problemi, come i giornali ci documentano. Ciao Pablito, il saluto del nostro Presidente Onorario Maurizio Panis a Pablito Rossi, legato anche alla nostra comunità perché il suo Lanerossi Vicenza veniva a fare la preparazione estiva a Ponte nelle Alpi e quindi si era creato un legame anche quasi personale. Viene dato conto dei libri che parlano dell'immigrazione, ecco qui una cosa interessante, Minatori del Basso Gordino negli USA, è una emigrazione da sottolineare. Viene dato conto poi dei mondiali di Cortina, i campionati mondiali di sci alpino, con la cronaca delle gare, dei 15 giorni di gare sempre trasmessi in televisione, che porteranno in tutto il mondo le immagini del nostro paese e delle nostre località. Si passa poi alle solite, nel senso buono, foto dell'immigrazione. Qui abbiamo una foto del 1968, uno dei primi volontari partiti per il Terzo Mondo, Italo Piero Buon, seguito poi anche da un'altra persona, Danila Zampieri, e poi altri, adesso è una cosa un po' più abbondante. Abbiamo poi una riflessione sulla giornata mondiale della pace e la cultura della cura come percorso di pace. Ecco, abbiamo visto Bellunesi nel mondo, da 55 anni insieme, il giornale dell'associazione Bellunesi nel mondo. Lombra, organo del circolo culturale sinistra Piave. Ecco, di questo numero diamo prima di tutto, oltre che il conto degli aguri che vengono formulati dalla redazione per il nuovo anno, con la speranza di miglioramento, di crescita positiva, anche chi ognuno con la sua storia. Diamo conto dei quattro titoli principali che riguardano i quattro comuni interessati dalla cronaca di questo giornale. Limana, Massimo Sommacal, maestro del lavoro, ecco, Massimo Sommacal, dirigente del gruppo Epta, è stato insegnito dell'onorificenza di stella al merito del lavoro, entrando a far parte della Federazione Nazionale dei Maestri di Lavoro, un'associazione ben presente nella nostra comunità, che premia chi rimane fedele per tanti anni alla sua ditta e la serve e diventa un segno di impegno e di dedizione a questa realtà, queste realtà. Ecco, questo è uno dei maestri creati dall'associazione e presentati anche nella nostra provincia. Mel, Borgo, Valbelluna, sono vissuta spessa in clima di guerra. Un libro che ricorda la maestra Luisa Gigetta Sartori, morto ormai nel 74, ma che ha lasciato un diario che è stato ripreso da suoi parenti, che l'hanno trascritto e hanno raccontato sia le memorie della maestra, scritte, immagino, con quella grafia che era tipica delle maestre del Novecento e con tutti i suoi ricordi e poi sono anche trascritte poesie, pagelle e documenti relativi al mondo della scuola. Ecco, è interessante rivivere un mondo che oggi non c'è più, ma che ha segnato la nostra storia. Ecco, l'autore Nicola Sartori ha presentato questo libro e ne ha curato la pubblicazione. Per l'NTI, il portico, una porta verso il cielo, ecco, viene presentata questa località caratteristica che vuole accogliere sempre le persone, nonostante il passare del tempo e forse abbia perso quella opportunità che c'era sempre di essere punto di riferimento e luogo di visita. E infine, per Tricchiana, Borgo Valbelluna, viene presentata la storia dei tre fratelli Cortina, storia di una famiglia trichianese. La madre, Maria Elisabetta, che lavorava come balia nella zona di Milano, era diventata un punto di riferimento per i trichianesi che andavano a Milano a cercare lavoro, è diventata appunto di riferimento e c'era una via, via Spiga, dove le persone che arrivavano dalla zona della Valbelluna avevano un punto di riferimento. Poi viene raccontata la storia della vicenda dei tre fratelli che hanno creato prima a Milano una libreria, poi in altre città, una biblioteca è stata creata anche a Tricchiana. La libreria Cortina è famosa e significativa in tante città d'Italia. Qui la foto documenta i tre fratelli nel 1947 a Milano. Il giornale presenta poi per ognuno di questi paesi gli avvenimenti e dei personaggi che non abbiamo tempo di presentare, ma abbiamo visto, chiudiamo così la nostra rassegna, l'ombra, organo del circolo culturale della Sinistra Piave. Con questo si chiude la nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno. Auguriamo a tutti i telespettatori buona continuazione con i programmi di Telebelluno. Grazie a tutti i telespettatori.